ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv e con questo ce l'ho mi manca della raccolta calciatori 2019 2020 ricordo che stiamo facendo il secondo album ragazzuoli il secondo album non è il primo ma il secondo perché molti nuovi iscritti mi hanno commentato io ho finito l'album un sacco di tempo fa questo è il secondo album ragazzuoli cercheremo di terminare anche questo di portarlo al termine e come al solito seguitemi sul canale youtube iscrivendovi al canale e attivando la campanella e seguitemi anche sugli altri social tra cui instagram tiktok e twitch siamo pronti ad iniziare ragazzuoli la prima figurina abbiamo attaccare è quella dell'atalanta di davan zapata attaccare poi non l'attacchiamo perché ce l'abbiamo eccolo qui davan zapata e ce l'abbiamo è doppione andiamo poi al bologna dove abbiamo dance will col numero 36 e ce l'abbiamo anche lui altro doppione bagli eccolo col numero 42 un altro doppione svalberg giocatore svedese col numero 49 ce l'abbiamo passiamo al brescia adesso ci sta dicendo male troviamo alessandro matri e anche lui è un doppione e super mario ballotelli altro doppione speriamo di migliorare perché per adesso stavano andando che stiamo andando veramente veramente male fiorentina dobbiamo dire arrivare addirittura l'ellasse verona quindi saltiamo anche il genoa andiamo direttamente al verona dove abbiamo la 186 abbiamo anche questa e poi abbiamo la numero 191 che è bessa e bessa ci salva la situazione perché bessa ci manca siamo riusciti a mettere una figurina dopo tantissimi doppioni bene ecco qui bessa poi abbiamo ste pischi che ce l'abbiamo eccolo ste pischi poi andiamo alla formazione del verona che c'è l'autobus del verona anche questo come potete vedere doppione passiamo all'inter dove abbiamo scrignar col 211 ce l'ho passiamo alla juventus dove troviamo il 240 dell'ict però poi troviamo cesni portiere ex liverpool ex roma polacco 241 ci manca eccolo qui cesni anche e sul nostro album 247 emri chan ce l'abbiamo andiamo alla lazio dove abbiamo la 268 bastos e anche bastos ce l'ho vavro eccolo ce l'ho marusic un altro doppione la sagra dei doppioni oggi la sagra dei doppioni poi abbiamo la 298 ben sar ce l'abbiamo tabanelli col 311 del lecce ci manca ecco qui tabanelli poi la 320 che la maglia del lecce anche questa è un'altra mancante poi abbiamo la curva del lecce che ce l'abbiamo passiamo al milan dove troviamo la 326 che è musacchio eccolo c'è la 332 duarte giocatore brasiliano ce l'abbiamo passiamo al napoli dove troviamo la 369 iunes eccolo poi passiamo direttamente al parma dove abbiamo la 398 scozzarella eccolo sprocati eccolo e ce l'abbiamo eccolo qua e poi andiamo alla roma alla magica e troviamo la 416 che è mirante e anche lui ce l'abbiamo alla samp e troviamo la 455 che è yancto altro doppione poi abbiamo la 461 che invece è gabbiadini e questa ci manca della sampa abbiamo trovato anche l'autobus proprio la parte che già abbiamo praticamente e andiamo al sassuolo dove abbiamo la 480 tripaldelli eccolo ed è doppione la 492 la formazione ce l'abbiamo la spalla dove abbiamo trovato la 513 kurtic eccolo c'è e poi troviamo anche la figurina speciale sempre con kurtic e floccari e anche questa ce l'abbiamo andiamo al toro 533 ansaldi bremer altro doppione simone zazza e invece ci manca che va qui simone zazza che anche un ex juventus come anche rincon allora poi passiamo all'utinese dove abbiamo sema col 568 che ce l'abbiamo andiamo al cittadella quindi passiamo direttamente alla serie b dove abbiamo trovato la 624 eccola ce l'abbiamo ci sta dicendo male anche con la serie b la 400 la 643 il crotone ci manca la formazione del crotone ci manca il cosenza la 647 ce l'abbiamo l'empoli eccolo altro doppione poi dobbiamo andare al livorno col 678 altro doppione la numero 700 che è il pisa del pisa eccola e la 708 del pordenone ci manca con misuraca pobega e strizzolo poi salernitana ce l'abbiamo il trapani troviamo la formazione del trapani con il 725 c'è e invece la 726 con carne secchi dini e pagliarulo ci manca poi abbiamo la formazione del venezia del 733 ma il venezia ce l'abbiamo completo quindi anche quest'altre figurine che abbiamo trovato del venezia ce l'abbiamo tutte andiamo invece al paragrafo quello relativo al sogno azzurro col 767 con sirico e donna ruma questa ci manca poi abbiamo la 774 con birachi e cristante e poi c'è la 779 ce l'abbiamo con velotti e insignia andiamo ai top performance dove abbiamo la 786 che è federico chiesa 787 che è criscito e ce l'abbiamo entrambi e 801 che è de paul dell'udinese andiamo nella top 11 dove abbiamo quella con cristiano ronaldo e giuliani e ce l'abbiamo e serie c con l'814 che c'è con como giana gozzano e juventus under 23 ragazzuoli io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao